Il medico e i volontari del 118 lo hanno ritrovato qui, ormai senza vita, intorno le due della scorsa notte in piazza Mercatale. La vittima è un uomo di 39 anni di origine marocchine, probabilmente morto dopo un overdose di eroina. Il 39enne era stato visto agonizzante da alcuni passanti poco prima. Gli stessi passanti avevano subito allertato il 118, ma all'arrivo dei sanitari l'uomo era già morto. Sul posto anche la polizia, mentre il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per accertare con sicurezza le cause della morte, anche se la dinamica appare quasi certa. Un dramma avvenuto a pochi passi dal centro storico e dalla Movida Pratese, ma chi ha un'attività di lavoro qui, un bar, un ristorante, non si dice sorpreso di quanto successo la scorsa sera. Non sapevo dell'evento di ieri sera, non c'è ancora scritto sul giornale, però la cosa purtroppo non mi stupisce. C'è una situazione di degrado, la situazione non sta cambiando e la vediamo peggiorare tutti i giorni. Eravate consapevoli di questi problemi di droga? Sì, assolutamente, anche se fortunatamente da noi non vengono, però vediamo parcheggiando nella piazza, quando poi da qua dal lavoro ci spostiamo, vediamo che in alcune zone ci sono delle situazioni un po' pesanti. Il problema di questa zona è purtroppo la presenza nelle ore un pochino più calme della giornata, tipo nella pausa pranzo si vedono dei giri non troppo belli. Poi per quello che riguarda la sera c'è la presenza di persone con appunto atteggiamenti fuori dalla norma purtroppo c'è tanta gente che si ubriaca e chissà probabilmente anche si drogano evidentemente.